Credo che sia notizia nota a tutti il fatto che un partito politico a Milano si sia messo a vendere i biglietti dell'Expo come un bagarino qualsiasi. Ecco, noi riteniamo che sia una scelta quanto mai vergognosa, io azzarderei, utilizzare uno strumento. Va bene che abbiamo dovuto trovare altre forme di finanziamento per i partiti, perché in teoria è stato al momento accantonato il finanziamento pubblico. Sta di fatto che noi la riteniamo una scelta vergognosa anche perché lo stesso PD aveva fatto le barricate, aveva utilizzato la stampa per fare i titoloni quando fu organizzato con un logo Expo un evento discutibile sul tema famiglia e poi noi oggi ce lo troviamo al PD con l'autorizzazione del logo Expo a vendere biglietti. Ci sembra una scelta quanto mai inopportuna, quindi volevo capire, Regione Lombardia essendo socia di questa società, come ha vissuto questo passaggio e cosa intende fare? Perché secondo me è una scelta vergognosa. Grazie. La ringrazio per l'interrogazione, consigliere Buffagni. Devo dirle che ci siamo mobilitati per chiedere informazioni in merito a questa vicenda alla società Expo. Ci ha risposto con una nota evidenziandoci l'obiettivo della società di raggiungere i 20 milioni di visitatori. La rete distributiva dei biglietti che vengono contratualizzati direttamente dalla società con i rivenditori stessi e al fine di selezionare questi rivenditori è stato emesso un regolare avviso pubblico che definiva caratteristiche operative e requisiti minimi per poter procedere alla candidatura. I rivenditori autorizzati, e qui comincio a leggere perché dovrò concludere la mia interrogazione dicendo che sono in corso successivi approfondimenti su questa vicenda, i rivenditori autorizzati devono sottoporre ad Expo la richiesta delle aziende che a diverso titolo chiedono di diventare sottodistributori di Expo e deve Expo formalmente approvarli. Non vi sono vincoli legati a categorie merceologiche o di settore, ad eccezione del canale bancario per cui vi è un'esclusiva, come ben sapete, con il partner Intesa San Paolo. Expo non interviene e ne viene in alcun modo coinvolta nella contrattazione commerciale tra rivenditori e sottodistributori. Diventare sottodistributore implica il rispetto delle regole di vendita dei biglietti previsto nel contratto di rivendita autorizzata e consente di disporre del logo del rivenditore autorizzato di Expo 2015 per la promozione ai fini dell'attività di rivendita biglietti. Io le ho letto perché questa è la nota scritta che Expo ci ha comunicato l'11 aprile. In ottemperanza alla procedura sopraesposta, Expo ha autorizzato in data 31 marzo il Partito Democratico, provincia di Milano, in qualità di sottodistributore della società Duomo Viaggi, rivenditore autorizzato di Expo 2015, in quanto in possesso dei requisiti di qui sopra. Il Partito Democratico, provincia di Milano, è stato autorizzato quindi all'utilizzo del logo e non è specificato nella mia nota quale logo, e questa è materia di successivo approfondimento, come rivenditore autorizzato la rivendita di biglietti quale distributore di Duomo Viaggi. Expo Milano 2015 attua nei confronti di tutta la rete di distribuzione diretta e indiretta, non male attività di sorveglianza e di controllo nel rispetto delle regole, e le tralascio e poi la nota può essere a vostra disposizione. Qual è il tema? Il tema è che se il sottorivenditore può utilizzare il logo del rivenditore, e in questo caso Duomo Viaggi, allora questo può essere materia di contrattazione e al limite può essere un ragionamento, l'opportunità di autorizzare un sottorivenditore quale figura di un partito politico, diverso è se la società ha autorizzato la sottorivendita con di conseguenza la concessione del logo. Questo a nostro avviso sarebbe un grave problema di opportunità, perché? Perché ci sono tantissime richieste da parte di associazioni, ONLUS, cittadini, sulla di avere il logo Expo per finalità sociali, economiche e culturali. Regione Lombardia poi è stata protagonista, ai medi, un sacco di polemiche per l'utilizzo di questo logo. Faccio presente che Regione Lombardia utilizzava il logo per tutte le proprie iniziative in qualità di socio. Ora, se con questo escamotage un sottorivenditore può utilizzare il logo Expo, questo lo reputiamo non consono alle finalità e non sotto il profilo formale, ma semplicemente sotto il profilo istituzionale, se viene concesso l'utilizzo del logo a un partito, noi lo reputiamo inopportuno. Devo peraltro dire che informalmente c'è stato comunicato che questa autorizzazione all'utilizzo del logo non c'è stata, però noi da una parte abbiamo una pubblicità a mezzo di social network con l'utilizzo del luogo del Partito Democratico insieme al logo di Expo, abbiamo una nota che non è chiarissima ma che ci lascia intendere che questo logo è stato autorizzato, una dichiarazione informale che ci dice che invece non è autorizzato il PD provinciale all'utilizzo del logo di Expo. Io spero che nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci arriverà una nota ufficiale di che cosa effettivamente sia stato autorizzato. Grazie. Presidente, io non so, lei l'ha sicuramente ascoltato, spero sia rimasto basito quanto me di questa notizia, perché insomma a me fa un po' piangere sinceramente questa vicenda, perché dimostra l'inadeguatezza evidentemente di chi oggi è nella segreteria provinciale del PD, perché gestisce queste cose come se gestisse, non so, la latteria sotto casa. Io mi immagino che prossimamente si organizzeranno sempre a logo PD, immagino i viaggi a Međugorje, i viaggi a Lourdes, immagino visto l'abbinamento, piuttosto che la vendita di mountain bike, set di pentole, insomma voi il leader ce l'avete già bravo nel settore, ma strotta potete tranquillamente coinvolgerlo. Io credo che sia una cosa di cui vergognarsi e mi auguro che i consiglieri regionali oggi qui in aula si facciano un attimo valere con il loro provinciale, perché a noi sembra un po' ridicola come scelta e soprattutto inopportuna, al di là del fatto che non entriamo nemmeno nella diatriba su quanto viene marginalizzato dalla vendita e quanto la vostra scelta vada a inficiare, a mettere in difficoltà i rivenditori ufficiali, perché voi così state falsando il mercato, cioè praticamente state andando a incassare soldi facendo dei prezzi più bassi rispetto a chi deve pagare le imposte sui prezzi dei biglietti che sta vendendo a cifre intere. Quindi va bene che siete esperti, no è così guarda, te lo assicuro perché voi non pagate le tasse sulla vendita di quei soldi, poi per l'amor di Dio se per voi va bene tutto perché giustamente col 2x1000 non avete incassato niente, mi dispiace, però io credo che sia una cosa vergognosa e mi auguro che voi prendiate le distanze da questa scelta, grazie.